Gian Pietro, oggi tornate a parlare delle periferie di Pescara, denunciate lo stato di abbandono, ci sono anche dei locali comunali che potrebbero essere assegnati, utilizzati dalle associazioni e che invece sono deserti. Qui siamo a Fontanelle, ma il discorso riguarda un po' le varie periferie cittadine. Purtroppo non sono così deserti questi locali, perché in realtà ci denunciano i residenti che qui è un luogo di spaccio, di degrado, molto spesso è molto pieno di queste persone. Quindi è un peccato perché a pochi passi dal murale di Milo che ha provato a dare una nuova luce a una zona periferica della città, appunto c'è questo locale che non è stato assegnato e che quindi è oggetto di degrado e crea anche insicurezza nel resto del quartiere. Purtroppo è un segnale allarmante di rassegnazione da parte del comune che non ci piace, la giunta Masci è assente, c'è il degrado, queste che sono case comunali, vediamo che non c'è neanche la cura del minimo indispensabile, c'è una fogna quasi a cielo aperto che è a pochi passi da noi. Ma c'è anche dell'altro perché diciamo che in questa zona da tempo c'è l'esigenza di metterci nuova linfa che le associazioni possono dare, queste associazioni sono anche rese disponibili a dare una mano ma occorre che il comune sia recettivo di fronte a queste esigenze. E poi c'è il tema fondamentale che diciamo della nuova farmacia, da tempo i residenti hanno chiesto che qui ci sia la farmacia che è un diritto civile avere almeno un servizio come la farmacia, purtroppo gli interpelli da parte della regione sono andati a vuoto, a questo punto non ci si può neanche qui rassegnare, occorre invece migliorare l'offerta, ad esempio diciamo che il comune può mettere gli immobili a disposizione oppure diciamo, vautiamo se è possibile che sia il comune ad aprire una farmacia comunale perché qui ce n'è bisogno ed evidentemente se l'interpello continua ad andare a vuoto non ci si può rassegnare ma ancora agire.